ragazzi siamo in un negozio di biciclette ricambi assistenza questo è il negozio del mio amico piero che saluto che si è fatto una postazione di simulazione mobile con le rotelle la muove come vuole ovviamente lui gioca con la playstation nel negozio arriva le persone mette in pausa si mi dica e torna a girare ragazzi mi fa morire incredibile che cosa non ci fa fare la passione quindi un saluto il mio amico piero per questa emozione ho passato un quarto da 20 minuti con lui a guardarlo girare che faceva impazzire la gente che passava bellissimo quindi niente volevo condividere con voi questo momento ma veniamo al dunque di questo video grand prix 4 si ragazzi grand prix 4 e si tratta dell'ultimo videogioco della serie grand prix di jeff cramons di microsoft all'epoca uscito nel 2002 in anticipo in europa mi ricordo è uno di quei titoli insomma che tutti si ricordano gp23 eccetera è un titolo che è caratterizzato da una serie infinita di mod che tuttora lo rendono giocabile e c'è ci sono persone addirittura con gp3 che fanno pure le carri 100 per cento quindi ciao toni questo per dirvi che cosa di che stiamo parlando di questo perché perché parlando con alessandro migali grandissimo modder italiano asr formula per chi non lo conoscesse siamo spesso in contatto e discutiamo delle vicende sim racing le novità che cosa eccetera che lui ha dei bei contatti e ogni tanto ci dice fabbri hai sentito hai fatto e mi ha detto mi ha detto scusate ragazzi mi chiedo a ridere mi ha detto fabbri ma lo sai ho visto il tuo ultimo video in cui praticamente scoppia a ridere quando parliamo di radar per le man salti mentre manca il 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 supporto alla realtà virtuale gli faccio sì quindi e niente mi dice vatti a vedere questo articolo e adesso ci arriviamo ho deciso di fare questo video perché effettivamente ho visto dai commenti che molti di voi hanno scaffalizzato le man salti mate molti di voi sono un po arrabbiati passatemi il termine del fatto che comunque hanno dato fiducia a studio 397 che dietro non ci sia questo supporto della realtà virtuale e molti criticano e secondo me in modo giusto il fatto che già tirano fuori dei dlc a pagamento su unirli access dove sta il senso di ma che senso ha questa c'è capite che boh mi si ingrippa il cervello e io dico ma finisci il gioco e poi fai dlc no e quindi per fare soldi che fanno dlc su dlc eccetera il programma quella e non si parla di questa features che è di di un'importanza bestiale la realtà virtuale ragazzi torniamo a grand prix 4 leggo st'articolo che poi un articolo non è ma è un in realtà un thread di un forum vecchio di grand prix games punto org dove un certo sergio poletti il 16 novembre 2018 tira fuori una mod per grand prix 4 che abilita la realtà virtuale un gioco vecchio di all'epoca 16 anni abilitano la realtà virtuale ora non so che dinamica non so ho visto l'immagine anche un video dove si vede il doppio schermo dove dicono ah per abilitarlo di fare questo e questo e questo e quindi ti ritrovi catapultato nel futuro di un gioco che non è stato concepito per la realtà virtuale dove uno un certo sergio poletti che saluto non so chi sia ma è stato bravo ad abilitare la realtà virtuale c'è già sei anni fa per un gioco di quanti anni vabbè vi direte che anche l'ottimizzazione di assetto corsa competizione all'epoca non è che è ancora tuttora non è ottimizzato per la realtà virtuale ma è una features che c'è studio 397 ma vi rendete conto e in più vi dico un'altra cosa vi dico un'altra cosa con una doppia voce quella stessa mod vi fa il commento della gara ma non così a casaccio vi fa il commento della gara di quello che sta realmente succedendo incredibile oggi tutte queste cose non ci sono le mansalti mi dice un commento dice ma il commento che ti serve ho capito ma questi pure il commento hanno messo è vero che possiamo avere l'ingegnere di pista con qualcosa di esterno cruise shift e altri eccetera ma cavolo ragazzi ma una cosa così importante io adesso vi lascio qua distruggete di nuovo le tastiere con i commenti e ditemi cosa pensate questa cosa cioè ci saranno quelli che hanno la realtà virtuale che pom 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 quindi niente volevo condividere questa cosa con voi che ancora una volta mi fa boh studio 397 ma che fate realtà virtuale ma nel 2036 e vorrei concludere dicendo che c'è un commento in particolare adesso non mi ricordo chi l'ha scritto e lo saluto dice secondo me si sono concentrati troppo su tutti i titoli di tutte le licenze che stanno riuscendo piano piano a recuperare e non ha torto e non ha torto vedremo e speriamo che non si perdano per strada il studio 397 motorsport games e facciano le cose come si deve perché anche se l'ho ripetuto un 50 volte in due video la realtà virtuale non può mancare in nessun titolo quindi ragazzi nella speranza che questo video vi sia piaciuto non esitate a lasciare un pollice in su mi raccomando con i commenti e qui vi aspetto e ovviamente iscrivetevi. il canale tanto è gratuito noi ci vediamo prestissimo da Fabrice è tutto un abbraccio ciao rimanete sintonizzati ragazzi perché settimana prossima c'è una cosa molto carina che dovrebbe arrivare ciao